Giro 29. Pedrosa supera Zarco e è primo. Giro 28. Pedrosa ingaggia un duello con Zarco per la prima posizione. Giro 25. Marquez terzo non riesce a superare Pedrosa dopo un testa a testa. Giro 23. Dovizioso è andato fuori strada e si ritira. Giro 21. Marquez finisce fuori strada e tutti lo superano, anche Dovizioso che rimane in quarta senza scalare nessuna posizione. Giro 19. Marquez super Zarco, e il francese poi a sua volta ritorna e si prende di nuovo la prima piazza. Giro 17. Lorenzo e Dovizioso tamponano Pedrosa per entrare sul podio ma nulla la forza dello spagnolo lo fa resistere in terza posizione. Giro 14. Alvaro Bautista termina fuori pista e si ritira. Giro 12. Rossi arriva sesto, e scala di più le posizioni. Giro 8. Zarco non viene infastidito da Marquez. Mentre nelle retrovie Rossi da ottavo passa settimo, e si mettere a tiro di Iannone. Giro 5. Dovizioso tallona Lorenzo per entrare in quarta posizione. Al momento tutto rimane come alla partenza. Giro 2. Zarco supera Marquez, e si prende la prima posizione. Giro 1. Zalco si riprende la seconda posizione. Rispedito al terzo posto Pedrosa. Giro 1. Marquez e Pedrosa si mettono nei primi due posti. Dovizioso quinto. Varm ha terminato e inzia la gara. Ordine di arrivo. 1. Marquez, 2. Zarco, 3. Iannone, 4. Lorenzo, 5. Pedrosa, 6. Pirro, 7. Rossi, 8. A Espargaro, 9. Dovizioso, 10. Rins, 11. Piespargaro, 12. Miller, 13. Vinales, 14. Rabat, 15. Petrucci, 16. Crutlod. Classifica Piloti. Marquez, 282. Dovizioso, 261. Vinales, 226. Rossi, 197. Pedrosa, 185. Zarco, 154. Lorenzo, 137. Petrucci, 121. Classifica costruttori. Honda 467, Yamaha 423, Ducati 398, Yamaha Tech 3238, Pramac 185. Ultimo atto della stagione con la battaglia finale tra Dovizioso e Marquez, al quale manca proprio davvero poco per vincere il mondiale. Nell'ultima gata Dovizioso non è riuscito ad arrivare sul podio, e quindi vincendo la corsa Marquez ha allungato il vantaggio sul pilota della Ducati. La vittoria a Valencia è un obiettivo possibile per la Ducati che punta a finire in bellezza una stagione già da incorniciare, portando un pilota sul gradino più alto del podio. Magari proprio il forlinvese, che così potrebbe freggiarsi del maggior numero di primi posti. Sarebbero 7, contro i 6 di Mark Marquez, con lo spagnolo favorito dal pronostico per succedere a se stesso nell'albo d'oro della MotoGP e a un posto dal titolo irridato. Per vincere l'italiano dovrebbe arrivare primo e sperare che Marquez finisca sotto il dodicesimo posto o fuori pista senza conquistare punti. Impresa un po' ardua ma non impossibile per quanto riguarda le due ruote che spesso finiscono fuori strada più delle monoposto della Formula 1.